Vi state avvicinando per la prima volta ai giochi di carte collezionabili? Una volta acquistato il vostro primo starter deck però, vi accorgete ben presto che le carte del mazzo, utilizzo dopo utilizzo, potrebbero inevitabilmente danneggiarsi? Quale prodotto o insieme di prodotti converrebbe acquistare allora per evitare che gli elementi della vostra collezione vadano irrimediabilmente verso lo stato di usura? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Come potete osservare, quest'oggi non mi trovo nel mio studio, bensì nella splendida location di Grande Inverno, dove tratteremo un tema molto importante per tutti i principianti dei TCG. Nei giorni scorsi, infatti, stavo pensando a dove poter realizzare questo contenuto e all'improvviso mi sono detto «Ehi, perché non proprio all'interno di una fumetteria?» E così ho contattato Stefano, il proprietario del centro ludico dove mi trovo in questo momento. In descrizione vi lascerò il link alla pagina Facebook e che ringrazio infinitamente per aver messo a disposizione l'intero punto vendita per la realizzazione di questo video. Ed eccomi qui, pronto per parlarvi dei migliori articoli da acquistare in fumetteria se state muovendo i primi passi nel mondo dei trading car games. Andiamo a dargli un'occhiata! Nota bene! In questo video andremo a trattare almeno due opzioni per categoria così da fornire più possibilità di scelta. In questo modo il nuovo giocatore avrà un'alternativa in mancanza di uno dei due articoli menzionati in questo contenuto. Se però entrambi i prodotti non dovessero essere reperibili, in descrizione troverete tutti i link utili per potervi assicurare la vostra copia. Partiamo, come già accennato, con il proteggere per l'appunto il vostro mazzo, con un prodotto top di gamma che potrà essere reperito in qualsivoglia fumetteria. Sto parlando delle immancabili Dragon Shield versione matte. Le Dragon Shield matte sono a tutti gli effetti le bustine protettive più utilizzate al mondo. La loro struttura e il modo nella quale vengono assemblate ne fa la scelta numero uno. Questo prodotto è sicuramente il migliore in termini di resistenza, dato che non avrà assolutamente problemi nel sopportare pressioni che temperanno di dividere la parte frontale da quella dorsale. In più, le bustine saranno disponibili in più formati, sia standard se sarete giocatori di Magic the Gathering, Pokémon, Flesh and Blood e Keyforge, che Japanese se sarete duellanti dell'universo di Yu-Gi-Oh! Ora però, cosa accadrà se il vostro negoziante avrà terminato le Dragon? Mi rendo conto che potrà risultare uno scenario piuttosto improbabile, ma nell'evenienza un valido sostituto delle Shield saranno le Katana della Ultimate Guard. Ottime anch'esse a livello di fattura, queste bustine protettive saranno quel che reputo il validissimo sostituto alle Dragon Shield, occupando il secondo posto sul podio condiviso assieme alle Ultra Pro Eclipse. In un video dedicato metteremo questi tre magnifici prodotti a confronto. Le Katana, come descrive il nome, sono state costruite appositamente per essere estremamente resistenti sui bordi, in modo tale da proteggere le carte al loro interno in modo sicuro ed efficace. Ci saranno poi anche le Inner Sleeve, se vorrete proteggere al massimo le vostre carte da gioco, ma di questi accessori ne parleremo in un video dedicato. Quindi, per difendere il vostro mazzo da tutto ciò che lo circonda, allungandogli considerevolmente la vita, Dragon Shield e Ultimate Guard saranno la scelta giusta che farà al caso vostro. Ora che abbiamo tenuto cura delle carte singolarmente, perché non farlo nel collettivo, dando un posto sicuro dove stare all'intero mazzo, a questa richiesta la sempre presente Ultimate Guard offre uno dei prodotti più venduti in mercato, con la soluzione Flippentray 100+. Il Flippentray 100+, è quel prodotto che, se lo avete, sarà praticamente per la vita. Se vorrete sfidare altri tre amici in Commander, affrontare un allenatore di Pokémon, combattere in una delle arene presenti in Flesh and Blood o aprire una cripta in Keyforge, potrete portare con voi tutto lo corrente necessario per avere una fantastica esperienza ludica da ripetere partita dopo partita. Il Flippentray 100+, è stato personalmente parlando il mio prodotto preferito, fino a che è stato spodestato da un altro articolo che letteralmente mi ha rubato il cuore, prendendosi di prepotenza il primo posto. Sto parlando del Watchtower 100+, della Gamegenic. Questo deck box può fare praticamente tutto quello che è in grado di fare il Flippentray, ma meglio. La sola possibilità di staccare e riattaccare attraverso un sistema di magneti le fasce che vanno a bloccare le zone ben definite dove andranno inseriti i token e il vostro mazzo preferito varranno l'acquisto. Inoltre, le sue diverse funzionalità lo indicano come il prodotto principe di tutti i portamazzi appartenenti a questa categoria. Nella scheda appena apparsa in questo momento, troverete un video che ne parlerà più nel dettaglio. Essendo inoltre di dimensioni piuttosto compatte e date al trasporto anche a mano, entrambi questi articoli sapranno come soddisfare a pieno le esigenze di ogni singolo giocatore. Molto bene, ora non vi spetterà altro da fare che giocare. Vi dirigete così al tavolo per affrontare il vostro avversario, ma vi rendete presto conto che, nonostante la superficie sia pulita, qualche residuo di sporco ostinato o polvere potrebbero andare a danneggiare le bustine o, peggio, il vostro deck box. Quale arma migliore allora per avere sempre uno spazio interamente dedicato alle vostre battaglie, se non un Playmat targato come sempre Ultimate Guard? Con una superficie in tessuto di alta qualità, con imbottitura soffice e costruito con gomma naturale, il Playmat standard della Ultimate Guard è il migliore per quanto mi riguarda attualmente sul mercato. Con uno spessore di 2 mm e retro antiscivolo, potrete utilizzare le vostre armi più potenti da scagliare contro il vostro rivale, usufruendo della massima protezione fornita da questo articolo nei confronti delle carte e degli accessori utilizzati durante le vostre lunghe sessioni di gioco. Alternativa a questo tappetino sarà quello firmato dalla casa americana Ultra Pro, che vi dirò, ho utilizzato per anni prima di passare a quello della Ultimate ed ancora oggi sembra come appena acquistato. Qui in fumetteria infatti durante i vari tornei o draft non manca mai l'occasione di notare un gran numero di questi Playmat appoggiati sui tavoli qui presenti. Il tappetino della Ultra Pro è quello che, a quanto ricordi, ha dominato per molto tempo in termini di presenza i tavoli da gioco. Personalmente ho utilizzato fino allo sfinimento questo articolo e non mi ha mai deluso. Se cercherete una soluzione meno massiccia proposta dalla Ultimate Guard, mantenendo comunque tutte le caratteristiche che serviranno a salvaguardare i vostri deck e accessori annessi, questo prodotto sarà sicuramente la prima scelta. Ora, alcuni di voi ripensando a quello che è stato detto prima della presentazione di questi articoli potrebbero chiedersi, eh Arconte, va bene ma se sul tavolo da gioco non si sporcheranno le bustine o il deck box ma si sporcherà invece il Playmat, cosa cambierà? Alla fine sempre qualcosa di sporco si avrà. Vero, se non fosse che in realtà i Playmat in questione, soprattutto quello della Ultimate Guard, dove è pubblicamente specificato, potranno essere lavati a mano, cosa che con le sleeves ed i portamazzi per forza di cose non potrete fare. Qui in sovrimpressione è appena comparso lo screen del sito ufficiale della Ultimate dove troverete le istruzioni per il lavaggio e in descrizione il link che vi riporterà proprio sulla pagina web del prodotto. Le seguenti istruzioni le potrete impiegare anche sui Playmat della Ultra Pro, le ho utilizzate personalmente e hanno funzionato alla meraviglia restituendomi un tappetino come nuovo di zecca. Con i Playmat della Ultimate Guard e della Ultra Pro avrete di sicuro degli articoli in vostro possesso che non vi faranno pentire dell'acquisto, essendo versatili e pronti a rispondere ad ogni esigenza di chi ne farà utilizzo. E il reparto gioco lo abbiamo sistemato. Ora però dobbiamo concentrarci su quello collezionistico. Eh sì, chi si avvicina ai TCG non potrà fare a meno di avere nella sua collezione dei pezzi rari, dopo aver aperto una bustina o addirittura un intero box acquistati in negozio che con il passare degli anni potrebbero anche accumulare un discreto valore. Ma, di certo, una carta ben tenuta verrà venduta ad un prezzo superiore rispetto ad una che ha subito su se stessa il passare del tempo. Per questo, quando inizierete ad avere una discreta collezione, la oramai costante Ultimate Guard potrà avere la soluzione adatta alle vostre esigenze. Il Flexfolio 360 18 Pocket vi permetterà di custodire ogni singolo elemento della vostra preziosa collezione al meglio, avendo pagine divise in compartimenti stagni, nove tasche per lato, impresse a caldo sulla superficie texturizzata di colore nero. Attraverso l'inserimento laterale della singola carta nel portfolio, inoltre, potrete proteggere a 360 gradi le vostre preziose carte, evitando l'infiltrazione di polvere o sporco, che potrà capitare invece con le classiche pagine da nove tasche con inserimento superiore. Inoltre, non ci saranno aperture accidentali dell'album, dato che l'elastico ne assicurerà l'intera struttura, mantenendola ben compatta. Potrete portare con voi questo articolo in ogni singola sessione di gioco, dato che potrà entrare facilmente in un qualsiasi zaino, non andando ad occupare molto spazio. Ma ci sono anche quei collezionisti nostalgici, come me ad esempio, ancora affezionati ai classici D-Ring. Ebbene, questa volta sarà la Gaingenic a fornirci la soluzione ideale. Il Prime Ring Binder è, a mio parere, il miglior raccoglitore della sua categoria. In ExoFiber, il materiale ideato e sviluppato dalla casa produttrice, utilizzato esclusivamente per i prodotti di classe alta all'esterno e microfibra all'interno, questo articolo permetterà di gestire l'intera collezione in modo piacevole e sicuro. Di certo, questi prodotti saranno una soluzione elegante e robusta per sfoggiare la vostra intera raccolta. Ma il Binder verrà venduto, ovviamente, senza pagine al suo interno che dovranno essere acquistate separatamente. A questa richiesta ci saranno i prodotti della sempre presente Ultimate Guard e della Gaingenic che risponderanno in modo appropriato a seconda delle preferenze di ogni giocatore. Le pagine della Ultimate saranno praticamente le stesse del Flexfolio, ma riadattate per essere inserite comodamente nel D-Ring, mentre quelle della Gaingenic saranno simili a quelle guard, ma semplicemente trasparenti. Con questa combinazione di articoli avrete il vostro album ad anelli sempre ordinato con tutta la vostra collezione al suo interno. Non dovrete neanche preoccuparvi in termini di spazio, dato che potrete aggiungerci pagine a vostro piacimento a seconda del numero di carte rare che avrete in vostro possesso. Ora, per gli elementi che non faranno parte del vostro raccoglitore, ci saranno più opzioni possibili che forniranno una soluzione di stoccaggio adeguata in base alle necessità che avrete. Se il numero di carte comuni in vostro possesso non troverà un luogo adatto, potrete optare per i contenitori salvaspazio. Non mi dilungherò troppo sul tema, dato che qui sul canale, in un video passato, si è trattata questa tematica più nello specifico. Attraverso la scheda appena apparsa in questo momento, infatti, troverete il contenuto che ne parlerà più nel dettaglio, fornendo anche piccoli trucchi utili che potranno essere realizzati con estrema semplicità. Tutte le soluzioni proposte in questo video, i quali link vi lascerò in descrizione, vi permetteranno di acquistare una sola volta e a seconda delle vostre idee potrete riutilizzare in continuazione ogni singolo articolo più e più volte fino a quando ne avrete voglia. E voi, vi siete mai trovati a dover decidere nel mare delle varie possibilità che gli accessori per i TCG offrono? E se sì, quanto vi sarebbe stato utile questo contenuto allora? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!